non vi ho mai raccontato una cosa di me dovete sapere che io adoro il lusso i gioielli i medaglioni infatti come questi medaglioni non sono gioielli ed io che volevo farvi vedere i miei gioielli allora sai che c'è avete patate salame beh seguite il video perché io oggi sono in sciopero in sciopero ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.